In collaborazione con me. Matera e i suoi sassi, una storia lunghissima, da vergogna d'Italia, a patrimonio dell'UNESCO, a capitale della cultura, che sarà nel 2019. Parliamo di susine, vediamo le numerose varietà che offre il mercato e soprattutto il punto della situazione della campagna. Parleremo di ortofrutta in un'annata che preannuncia finalmente delle soddisfazioni per i produttori, non solo per quello che riguarda le pere, ma anche per pesche e nettarine. E poi da Imola i prodotti tipici del territorio scendono in pista in occasione della sesta edizione del concorso dedicato alla memoria del giornalista Ezio Pirazzini. La nuova puntata di Con i frutti della terra ci ha riportato in Basilicata e a lasciarci senza fiato. Qui è la bellezza di una città tra le più antiche del mondo, dove l'uomo ha sempre vissuto dal paleolitico fino ad oggi Matera e i suoi sassi. La città è nata qui, nelle grotte naturali della gravina scavate nella roccia, poi mano a mano cresciute, modellate dall'uomo grazie alla facilità con cui il tuffo si può scavare. E così sono state ricavate le chiese rupestri, poi gli strati successivi costruiti fuori terra. Ma c'è anche una parte di città che è invisibile a prima vista, fatta di cisterne per la gestione dell'acqua, enormi, grandissime, riscoperte anche a dire la verità pochissimi anni fa, negli anni 90. Poi neviere, cunicoli e poi dopo durante tutto il Medioevo il paesaggio rupestre è stato trasformato con la costruzione di imponenti luoghi di culto, come la cattedrale in cima alla collina della Civita che divide proprio i due sassi. Il sasso barisano dall'altra parte della collina, qui alle nostre spalle abbiamo appunto la parte medievale e la Civita e questo il sasso caveoso, probabilmente quello più povero, più caratteristico, che davvero ci fa capire quanto potesse essere dura la vita nei sassi. Una vita durissima che ha decretato anche in qualche modo la morte per un certo periodo, il rischio di morire di questo patrimonio immenso, che è davvero un esempio unico di architettura, di cultura, tanto che nel 1993 l'UNESCO ha dichiarato i sassi di Matera patrimonio mondiale dell'umanità e nel 2019 Matera sarà capitale della cultura. Se si è arrivati a questo, molto lo si deve al Circolo La Scaletta fondato nel 1959, un periodo in cui i sassi davvero hanno rischiato di scomparire. Matera era appunto la città della vergogna, all'inizio degli anni 50 gli abitanti furono trasferiti e Matera divenne una città fantasma. A quel punto è nato e ha cominciato ad intervenire il Circolo La Scaletta, tra i soci fondatori Michele De Ruggeri. Un percorso bellissimo, devo dire ci avete regalato col vostro lavoro un patrimonio stupendo, commovente, e avete censito tra le altre cose anche queste chiese rupestri, sono tantissime e questo forse è uno degli esempi più belli. Dove ci troviamo? Madonna delle Virtù e San Nicolo dei Greci sopra. La Madonna delle Virtù è sicuramente, dal punto di vista architettonico, la chiesa rupestre più interessante. Quindi pensare che i monaci hanno ricavato questo spazio liturgico togliendo materiale e non apportando. E in questo lavoro di scavo hanno riproposto però tutti gli elementi dell'architettura costruita, la colonna, il capitello, fino ad arrivare alle cupole. Davvero si dice che Matera è architettura al negativo, nel senso che non si costruisce, non si aggiunge niente, ma si scava. E davvero l'impressione è di essere in una città che si è stratificata, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, è cresciuta su se stessa. Certamente. E poi appunto togliendo questo materiale, questo materiale non veniva buttato via, ma con questo materiale venivano costruite le casse fuoriterra. E quindi abbiamo questo matrimonio tra roccia, cavità, che diventano poi chiese, cantine, eccetera, e case costruite. E un'altra cosa che bisogna dire di questi sassi di Matera, che ci vivevano tutti, ci vivevano i ricchi e ci vivevano i poveri. E i ricchi chiaramente costruivano grandi palazzi. Infatti sia quelli che stanno intorno alla cattedrale, ma quelli che stanno dentro i sassi, sono delle costruzioni che sono venuti sopra le grotte. Infatti è incredibile, bisogna solamente visitarla, conoscerla. Tra l'altro è diventata patrimonio mondiale dell'umanità, non solo, non tanto per la sua bellezza, la particolarità, ma proprio per una cosa molto particolare, la gestione delle acque. Certamente. Perché l'acqua è la vita. E probabilmente già nell'età preistorica l'uomo si è insediato qui perché c'era questa che viene chiamata la gravina di Matera, che è un corso d'acqua che scorre tra questo canyon della murgia materana. E quindi l'acqua. L'acqua però poi, quando la popolazione ha preso possesso di tutto lo spazio che oggi vediamo tra il sasso barisano e il sasso cavioso, è diventata numerosa questa popolazione, ha dovuto fare tutti dei lavori di captazione, decantazione e conservazione delle acque. E tutto questo sempre con elementi scavati nella roccia. Io la ringrazio infinitamente. Sono convinta che Matera avrà ancora tantissimi segreti da rivelarci in un prossimo futuro. Grazie, grazie per quello che ci ha raccontato, per il lavoro soprattutto che avete fatto. Insomma, quello dove noi ci troviamo in questo momento è davvero un'opera d'arte. Un'opera d'arte che al suo interno ospita altre opere d'arte. Infatti, in questi mesi, per la 31esima edizione delle grandi mostre nei sassi, ospita la personale di Girola Mociulla di More del Mito, a cura di Beatrice Buscaroli. E dopo aver visitato questa splendida città, chiudiamo ovviamente con quelle che sono le eccellenze, con alcune delle eccellenze gastronomiche della cultura di Matera. Qui con noi è Francesco, che è lo chef del ristorante L'Abbondanza Lucana. Che cosa abbiamo qua davanti? La storia della gastronomia lucana di Matera? Sì, non solo di Matera, ma anche della nostra bella collina materana. Questo è un piatto tipicamente nostro della collina, che è della salsiccia sbriciolata, con il peperone di senise e finocchietto selvatico. Non è altro che l'impasto del salame, che in antichità si faceva la prova e si era buone di sale. Nel momento in cui il sale, tutte le signore intorno a tavola, vediamo che il sale era giusto, si riempiva e poi si appendeva e si faceva asciugare. La famosa lucanica. Questa è la prova del salame. Questa è la prova del salame. E quindi si faceva proprio in un pentolino, termine dialettale, proprio sartacenielle, si chiamava. Proprio questa cosa piccolina, tutta deforme, perché oltre negli anni, anche per vent'anni, era sempre il solito pentolino che si recuperava all'inverno. Tutto deforme. Questa invece è una cosa tipica proprio di Matera, che è la famosa crappiatta dove il raccolto del grano ad agosto, si fa questa festa a fine raccolto con grano, legumi, fave. Noi chiaramente l'abbiamo arricchito con dei funghi porcini, peperoni cruschi, insomma gli abbiamo dato un tocco originale, dal palato in tempi moderni. L'innovazione della tradizione non è solo un modo di dire. Non è solo quello il modo di dire. Questa invece è un'altra tipica ricetta, questa è una ricetta che mi ha dato mia madre, è praticamente la carne del maiale che si conservava sotto aceto e quindi nel periodo invernale si recuperava quando magari la domenica è un periodo di festa e si metteva sulle nostre tavole. Non è altra che una carne conservata sotto aceto con dei carciofi e vin cotto. Presentiamo la nostra regione con tutte le sue specialità nel territorio, in tavola. Io la ringrazio infinitamente per averci anche trasmesso la passione per questa terra, per la sua cucina. E a questo punto qui si conclude il nostro viaggio in quel di Matera, restituisco la linea però, la nostra trasmissione continua.